Ciao e benvenuto a un nuovo video podcast, tanto li sto mischiando tutti, l'importante è che cerco di trasmettere queste informazioni, di Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi vi voglio parlare velocemente dei debiti e dei risavanzi dei paesi del sud Europa. Sì, ci siamo anche noi, gli italiani. Allora, partiamo da questo. Che atteggiamento hanno i paesi del nord Europa verso il Recovery Fund, il MES e gli altri strumenti che la BCE e l'Unione Europea stanno mettendo in campo? Se lo guardiamo dai nostri occhi sembrano molto cattivi, perché non li vogliono, vogliono che non ci siano finanziamenti a fondo perduto, vogliono che siano solo prestiti, vogliono che siano pochi limitati, ma proviamo a fare un passo di lato e proviamo a metterci nei loro panni e scopriamo che non hanno tutti i torti. Infatti, mentre negli ultimi anni l'Italia, la Francia e la Spagna spendevano e spandevano, allegramente, approfittando dell'aiuto della BCE, la Germania, l'Olanda e gli altri paesi del nord che oggi sono contro di noi, tra parentesi, mettevano invece da parte riserve per essere pronti in caso di gravi problemi e questo è vedibile se ti vai a leggere l'articolo su questa cosa che è pubblicato sul mio sito. Infatti, poi il grave problema è arrivato, la pandemia del coronavirus, quello che stiamo vivendo un po' tutti quanti, che adesso fortunatamente sta, non dico finendo, ma si sta attenuando, però c'è bisogno di spendere molti soldi. Se prendiamo... cosa è successo nel concreto? Noi non abbiamo soldi. La Germania, sì. Infatti, se prendiamo l'esempio la Germania, da sola ha stanziato quasi 1200 miliardi di euro tra aiuti diretti e garanzie alle imprese e ai privati. Se facciamo il confronto con noi siamo proprio anni luce indietro. Questo le permetterà di ripartire alla fine del Covid, quindi in questo periodo, ancora più forte di prima perché le sue industrie saranno molto più forti, mentre l'Italia e gli altri spendaccioni, anche con gli aiuti del Recovery Fund, del MES, del Sur, della BCE e di qualsiasi altro strumento che metteranno in campo, saranno sempre molti passi indietro rispetto alla Germania e gli altri paesi nordici che, perché avendo soldi da investire, molti più di noi ripartiranno molto meglio. Naturalmente la speranza è che l'Italia e Company, cioè gli altri del Sud, spendono bene i soldi in arrivo, ma già dalle dichiarazioni dei politici e dei personaggi e loro vicini la previsione dell'impiego di questi capitali che arriveranno non sembra né oculata né che verrà impiegata in modo produttivo. L'Italia e gli altri stati cicali stanno approfittando della situazione per forzare l'Unione Europea ad accettare le loro richieste, cioè mutualizzare il debito e andare verso un'unione fiscale e anche economica oltre che politica. Ma come lo stanno facendo? È utilizzando la minaccia del too big to fail, ovvero troppo grandi per fallire. In pratica minacciano tutta l'Unione che se non verranno soddisfatte le loro richieste di aiuti vari, allora l'euro e tutto quello collegato fallirebbe. Anche perché il loro debito, quello dell'Italia e degli altri, grazie al programma di acquisto che la BCE porta avanti da molto tempo, è in larga parte in mano la BCE stessa. Per quanto riguarda l'Italia siamo arrivati ad una percentuale del 22,6% nel 2019, con previsioni di crescita per arrivare fino al 38,5% nel 2020, della quantità di nostri titoli di debito in possesso della BCE e della Banca d'Italia, perché la BCE non le acquista direttamente, le acquista tramite le varie filiali delle banche di ogni paese. E sempre su questo, se vai sull'articolo scritto sul sito alfonoselva.it, potrai vedere il grafico che ti fa vedere questo andamento. Il problema Covid-19 è stato, ed è un'altra cosa, ed è molto sfruttato opportunatamente per forzare ancora di più la mano ai nordici, e sembrerebbe che il lockdown sia anch'esso usato per far peggiorare ancora di più lo stato deficitario delle economie del sud Europa. Ad oggi il ricatto sembra funzionare, e speriamo che comunque, dopo l'ennesimo salvataggio dei paesi poco risparmiosi, noi e gli altri del sud, l'Unione bancaria e fiscale porterà anche ad un controllo esterno dei modi di spendere male di questi stati, cioè noi e gli altri. Quindi, dimmi cosa ne pensi rispetto a questo, se vuoi vedere l'articolo che ho pubblicato su www.alfonsoselva.it, scrivimi a info-alfonsoselva.it, oppure senti il mio podcast Finanza Semplice. Ciao e alla prossima!